Allora ragazzi Allora ragazzi oggi ho incontrato un ragazzo un ragazzone giamaicano Now I'll show you Guardate un po' guardate un po' chi c'è qua con me Riccardo ragazzi Con lui scambieremo due parole riguardo a Jamaican roots Adesso ascolterà la canzone andremo in spiaggia E mi dirà cosa ne pensa Ok quando sei pronti Tu puoi imparare Tu puoi imparare Questa Puoi imparare o poter imparare Questa 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 Ok Questa 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 Ok Non problema Mi dice che potrei andare in Jamaica e mi aspetterebbe a volentieri Allora ragazzi Sto succedendo una cosa assolutamente interessante per me Ho incontrato Riccardo Questo signore che è nativo giamaicano Quindi veramente un puro sangue Sto facendo ascoltare Jamaican roots per sapere cosa ne pensa Pure Jamaican Guarda Wow 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 È incredibile Per me Questo è un momento Veramente Veramente Importante Adesso sentiremo cosa Cosa mi dirà Jamaican motto is out of many We are one Yeah We have Jamaican Chinese Jamaican Asians Russian From Italia We have Everyone In the world Is in Jamaica Yeah And they are all Jamaicans Yeah Yeah Exactly We are many But we are one E Gliote mi diceva che insomma Comunque abbiamo tutti dei legami con la Jamaica Insomma Che tu sia Italiano, francese, spagnolo Siamo Abbiamo un legame forte Quindi Sono assolutamente d'accordo Ok ragazzi Abbiamo appena ascoltato il brano Con Riccardo E a lui Sto chiedendo Cosa pensa Cosa ne pensa Di Jamaican roots E nulla Glielo chiediamo subito Glielo chiedo subito ragazzi Ok What do you think about the song? I think the song is excellent I'm sure I have to introduce No, I don't Oh no Allora ragazzi Sono qua Con Riccardo Che adesso vi presenterò Riccardo è un Jamaicano Ragazzi Jamaicano puro Ok Born in Jamaica Riccardo È stato già I've just listened to music And I ask What do you think about Jamaican roots? The music is boom man Yeah Boom Wow guys Sì, in Jamaica, dobbiamo pensare che qualcosa sia buono, è BOOM! Perfetto, è BOOM! Ragazzi, è BOOM! È abbastanza per me! Sì, sì, sì! Sì, sì, sì! Sì, sì! Perfetto! Non l'abbiamo mai dimenticato. E dopo questo, ho sfruttato a sfruttare in un pool. Wow, wow, wow! Rollo mi sta dicendo che, praticamente, loro in Jamaica, per via del caldo eccessivo, spesso vanno a nuotare. In Inghilterra, tentava di fare lo stesso, però, chiaramente, la situazione è diversa. Perché non? Ok! Ok, salutiamo Riccardo, e lo ringrazio profondamente, perché questo per me è stato un momento estremamente importante, come voi, credo, possiate immaginare. Nulla, Rick! Nice to meet you! Nice to meet you! See you in Jamaica! Ha preso un freddo incredibile, per cui, da quel momento, lui non riesce facilmente a bagnarsi, se non in condizioni, climatiche estreme, insomma, quando è molto caldo, in conclusione. Yeah, it was a big, big shock! Yeah, big shock for you! Big shock, man! Big shock, you know? And, yeah, as I said, I've never been swimming in the UK. Jamaican shock! Yes! This is next song! Yes, yes! This will be a... Yes, yes! Definitely, definitely! Yeah, thank you again! One, two, three! Grazie a tutti